La stazione di Guardiaregia è una stazione ferroviaria, posta lungo la ferrovia Esernia Campobasso, che serviva il comune di Guardiaregia, paese di 700 abitanti nella provincia mulisana di Campobasso. Lo scalo è stato sospeso al servizio viaggiatori nel 2008, su una linea che vede più stazioni chiuse che aperte. Un punto che dovrebbe far pensare alla mancata incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico in Italia. Non solo mancata incentivazione, anzi, ma disincentivazione, che avviene in parte attraverso i tagli alle corse, in parte attraverso quelli alle fermate. Senza contare, però, che a soffrirne profondamente è il territorio stesso. Riapriamo Guardiaregia.